vediamo come crearci un effetto di stella pulsante, un'animazione su questo effetto per creare la sensazione di una pulsazione io lo applico ad un testo ma è possibile comunque utilizzarlo per immagini, punti luce, candele insomma tutto ciò che abbia un senso far brillare sulla finestra dei livelli iniziamo con aprirci un nuovo livello vuoto colori di primo piano, scelgo il bianco ma non è vietato utilizzare altri colori pennello e vado a ricercarmi un pennello a stella quello che io ho qua non è presente di default in Photoshop è possibile trovare serie di pennelli in rete con una ricerca non è complicato né scaricarli e né caricarli sul programma che vanno inseriti nella cartella dei pennelli quindi mi scelgo questo pennello a stella una dimensione piccolina perché voglio creare 4 pennelli sovrapposti che poi si alterneranno nell'animazione e inizio con una prima applicazione creo un livello nuovo, aumento la dimensione del pennello e vado ad applicarlo esattamente sopra l'altro nascondo il precedente, attivo un altro livello vuoto aumento ulteriormente le dimensioni e applico sopra nascondo il precedente e mi creo un quarto livello vuoto aumento ancora le dimensioni del pennello e faccio l'ultima applicazione sopra tutte le altre eccoci, mi seleziono tutti e quattro i livelli delle stelle quindi con CTRL li clicco tutti e quattro tasto destro del mouse duplica livelli ecco che me ne ritrovo qua tutti e quattro duplicati questo perché voglio creare due stelle pulsanti in due posizioni diverse con lo strumento sposta vado a posizionare in un'altra posizione in un altro punto eccoci qua, a questo punto li disattiveremo tutti quindi spegniamo l'occhietto di visualizzazione e andiamo a crearci la nostra animazione quindi da finestra richiamiamo animazione e lasceremo il primo fotogramma con tutti i livelli delle stelle disattivati iniziamo con il duplicarlo quindi trasciniamo nella seconda iconcina e nel secondo fotogramma attiveremo la prima stella piccola che vediamo qua a sinistra e la più grande a destra questo perché creerà nell'animazione un'alternanza del pulsare da piccola a grande qui a sinistra e da grande a piccola nella destra duplichiamo ulteriormente il fotogramma disattiviamo la prima stella attiviamo la seconda disattiviamo l'ultima e attiviamo la penultima e così via quindi duplichiamo ancora il fotogramma attiviamo la terza e disattiviamo la precedente attiviamo la terza ultima e disattiviamo la precedente quarto fotogramma duplichiamo ancora disattiviamo la precedente e attiviamo quella successiva e lo stesso nella seconda stella disattiviamo e attiviamo la più piccola ecco dovremmo essere pronti per vedere come è l'effetto selezioniamo con control tutti i fotogrammi diamo un tempo veloce di di transizione ricordiamoci di spuntare sempre e facciamo una prova ecco il nostro effetto è proprio quello di vedere alternato il pulsare di queste di questo effetto stella adesso lo vediamo girare lentamente ma una volta salvato sarà molto più veloce l'effetto fermo e vado a salvare come nei tutorial precedenti per web e dispositivi anche qua lasceremo stare tutto come troviamo ottimizzato quando il secondo tasto è la scelta migliore formato gif colori e campionamenti li lasciamo stare interveniamo solo sulla percentuale della dimensione se vogliamo che sia più piccolo dell'immagine di partenza che abbiamo creato facciamo una prova ecco qui già vediamo che è più veloce l'effetto rispetto a prima e comunque una volta salvato sarà in ogni caso molto più veloce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti